buongiorno di nuovo lo ripetiamo domani la marea è previsto che tocchi una punta di 135 cm sopra il livello del mare alle 8 e che il mose sarà attivo questa volta è emerso un tema di composizione dei vari poteri che decidono sul mose dal provveditorato interregionale quindi il ministero delle infrastrutture al commissario straordinario il consorzio venezia nuova che ha costruito e sta completando il mose e manovra le paratoie il comune stesso proprio oggi il prefetto di venezia vittorio zappalorto sollecitava un maggior coinvolgimento della città nelle decisioni infine c'è il tema delle opere complementari per la difesa dell'area di san marco perché il mose da solo non basterà nel frattempo siccome occorreranno due tre anni di lavori la basilica deve essere difesa e la procuratoria di san marco sollecita con forza la costruzione di un recinto in vetro quindi il meno possibile impattante temporaneo intorno alla basilica che nel punto più basso il nartece cioè l'atrio è a circa una settantina di centimetri sopra il livello del mare ieri per darvi un'idea con 138 di punta massima avevamo una settantina di centimetri d'acqua nel nartece e ci sono volute cinque ore per far defluire la marea da san marco all'inallo studio grazie a tutti